ora vediamo ho preso dentro la roccia minchia che male ho preso dietro qua sono andato lì per quello cosa fai vai indietro torno indietro ho preso questo per quello che ho puntato lì se la fai aspetta aspetta vai tranquillo ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io a figa non ce la devo fare ma scassiamo a figa non ce l'ho ok vabbè oggi è la mia giornata eh ok Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.